ciao a tutti ragazzi siamo tornati in un nuovo video oggi ragazzi siamo tornati con i post partite le pagelle di fiorentina juventus una partita che è stata vinta metodo allegri partita dove non abbiamo rischiato niente abbiamo sofferto sicuramente come possesso palla perché siamo stati distrutti guardando le statistiche del possesso palla e di tiri ma i rischi che sono stati percorsi concreti ce ne sono stati pochi a parte un tiro dove celsi ha fatto una gran parata ma noi abbiamo fatto un'azione un gol una vittoria classica anche da fifa nel gioco degli sbox che sicuramente quando poi giochi e soffri tanto magari che gli altri ti fanno 10 20 t e te fai solo un tiro fai gol è quello decisivo per la vittoria quindi una vittoria stile massimiliano allegri cioè gol e poi tutta la partita in difesa senza però rischiare perché l'importante poi non rischiare sicuramente non è stata una bella partita sotto il punto di vista del gioco e non è anche bella da vedere per i tifosi juventini però poi l'importante risultato finale cioè la vittoria è una partita dove c'era bisogno di fare una partita sporche l'abbiamo fatto e quindi perfetto una partita che ci ha regalato tre punti importantissimi perché siamo a meno due dell'inter nella vigilia dell'incontro che ci vedrà sabato alle 6 contro i Cagliari fondamentale fare i tre punti e poi l'inter partita decisiva per le sorti dello scudetto sicuramente anche se siamo solo al tredicesimo con l'inter e quindi ragazzi andiamo subito ad analizzare questa partita come già detto la juventus solo quattro tiri totali tre in porta quindi gran precisione perché tre tiri su quattro in porta la fiorentina 25 tiri e quattro solo in porta ciò significa che i tiri in porta sono stati uguali tra juve e fiorentina fiorentina molto 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 meno precisa rispetto alla juve ma perché la juventus non gli ha lasciato spazio dentro l'area ha tirato ha avuto il 70% di posto spalle rispetto alla juventus 69 fiorentina e 31 juve ha fatto il dopo dei passaggi ha fatto 83% precisione passaggio e l'juve 67% i fagli molti di più la juve ma la juventus ha fatto un gol subito al 10 minuto gol di miretti che si sblocca finalmente quindi grandi mire e però la fiorentina 25 tiri solo quattro sono arrivati in porta una gran parola di 6 e gli altri abbordabili perché l'juventus è stata bravissima i difensori stati bravissimi ma anche i due attaccati sono stati bravi ad andare nella fase difensiva la juve difendeva 11 e attaccava poi con attaccava solo in due tre occasioni soprattutto quelle del 10 minuto quindi è stato un periodo sicuramente dove abbiamo subito l'avanzata della viola però sicuramente abbiamo fatto quello che dovevamo fare la partita sporca senza troppo concedere sicuramente allegre aveva capito che se dopo l'1-0 continuiamo ad attaccare rischiamiamo di avere lacune che con la fiorentina una squadra pazza come la fiorentina non doveva avere quindi una volta andati in vantaggio bisogna fare una partita di difesa sporca dove però non bisogna analizzare gli spazi o andare e l'abbiamo fatto quindi sapò sapò mister e quindi abbiamo fatto una partita non spettacolare da vedere anzi brutta da vedere ma efficace ed è questo l'importante e quindi l'analisi veloce c'è poco da analizzare abbiamo fatto una fase difensiva perfetta dopo il gol che è nato su una bella occasione creata da Kostic e Miretti quindi questa è l'analisi velocissima della partita perché ripeto non c'è tanto analizzare ma c'è da analizzare questo che noi adesso siamo almeno due dall'Inter ci crediamo ci crediamo e come e quindi andando un po' a fare le pagelle di questa partita cominciamo subito da Sesni Sesni ha fatto veramente una partita come le ultime partite importante perché Sesni non ha subito tanti pericoli né in questa partita né nelle ultime partite ma ciò che ha subito lui ha preso e ha fatto anche parate importanti perché col Milan Verona fa due parate che salvano la partita e anche con la fiorentina ha fatto una bella parata e quindi sicuramente Sesni 7 le pagelle stiamo facendo come vedete come ultimamente dato che adesso durante la stagione invernale autonale invernale c'è molto meno tempo che in estate personalmente quindi faccio queste pagelle di questo tipo con tutta la squadra senza giocatore per giocatore facendo vedere le facce ma così a voce Sesni 7 ripeto perché è sempre decisivo quando c'è da essere decisivi Rugani 7 e mezzo uno dei migliori insieme ai reti di questa partita perché Rugani in queste partite dove è mancato Danilo e dove ha giocato lui ha dimostrato di essere una grandissima riserva una riserva di lusso di lusso che la Juventus ha sempre avuto perché anche quando c'erano Barzali e Bonucci e Chiellini come ha detto Allegra in conferenza stampa Rugani non trovava tanto spazio quando c'erano Barzali e Chiellini e Bonucci in difesa però lui è sempre stato così è sempre stato un sostituto di lusso che poteva giocare anche gran partiti in Champions come con il Real e il Barcellone poi chiaramente con avversari come Messi Ronaldo con del Real Neymar di quel tipo lì soffriva un po' perché non era il livello di quei tre Chiellini Barzali e Bonucci di quel tempo però sicuramente faceva il suo e per vincere la Serie A per vincere Scudetto Rugani è un giocatore che potrebbe anche giocare tranquillamente titolare perché Rugani sicuramente a livello di Gatti sicuramente a livello non dico forse di Bremer ma sicuro di Gatti e Bremer Danilo magari no però sicuro a livello di Gatti lo è quindi Rugani è una riserva di lusso che la Juventus ha da tanto e che adesso è fondamentale per i problemi fisici che hanno i difensori e Usen è un'altra riserva di lusso che più di lusso io credo sia un titolare di lusso Usen perché è ancora giovanissimo ma io credo che più riserva di lusso Usen sia titolare di lusso quindi però Rugani grandissimo e c'è da fare complimenti a questo ragazzo 7 e mezzo Bremer 7 si sta trovando non ha rischiato niente ha difesa tutta positiva anche Gatti 7 Bremer e Gatti 7 tutti e due perché non ha fatto andendo in speciale ma ha difeso tutta la partita 90 minuti senza concedere niente marcando stretti i giocatori perché l'unico giocatore delle Florentine che si è fatto pericoloso è stato Nico Gonzalez che comunque partiva dalla passia e creava problemi sicuramente alla difesa di Juventina Costic un po' lo soffriva dovendo difendere Costic non essendo un giocatore che difende ma un giocatore che attacca o è comunque un centrocampista e quindi un po' ha sofferto però Fuame che giocava davanti Bremer l'ha tenuto benissimo e anche Gatti ha fatto il suo lavoro quindi sicuramente Bremer e Gatti 7 compatti alle difese veramente tutti sopra i 7 Costic 6 e mezzo non è ancora Costic dell'anno scorso però è migliorato almeno nella precisione dei cross come quello con il gol di Miretti l'anno scorso aveva una precisione clamorosa di cross grandissimo assist man da quando giocava nell'entra Francoforte all'inizio di quest'anno aveva perso anche quella precisione ed è per questo che prende tante volte 5 e mezzo ha ritrovato precisione deve ritrovare ancora un po' di spunto fisico e di precisione nei passati non solo nei cross quindi 6 e mezzo però il suo gol è l'assist di Costic per Miretti McKennie 7 è un giocatore ritrovato un giocatore che ha trovato un suo ruolo che non era il suo fino a questa stagione cioè l'esterno di destra io anche dicevo personalmente che avrei fatto giocare il centrocampo non aveva senso farlo giocare l'esterno destro che non è il suo ruolo ma Allegri ci ha creduto e alla fine McKennie è diventato un esterno destro tra i migliori della Serie A quindi sapò del Allegri e sapò McKennie che sta facendo una grande stagione e anche questa partita ha fatto una grande prestazione Miretti 8 perché è stato il giocatore decisivo perché è andato lui a segnare gol che ha decretato la vittoria della Juventus si è sbloccato finalmente dopo belle prestazioni le ultime due o tre partite si sta ritrovando in Miretti nell'inizio dove si era visto un gran Miretti poi era calato adesso con l'assenza anche di Faggio Miretti sta facendo vedere bene quindi avremo anche in futuro Miretti e Fagioli che potrebbe essere la coppia veramente paragonabile a Pirlo Pogba di una volta o Pirlo Marchisi perché io vedo più Miretti come Marchisi e Fagioli come Pirlo Lirelli quindi grande grande Mire, 8 poi il resto sono tutti la fase offensiva non si può che dare voti minimo sufficienti Locatelli 6, Rabiot 6 Locatelli e Rabiot 6 perché hanno fatto la fase difensiva in modo buono, giusto e in fase offensiva non hanno fatto niente perché non c'è stata la fase offensiva dalle Juve se non nel gol e in altre due occasioni quindi Locatelli e Rabiot 6 Ken e Chiesa anche loro 6 vado a coppia perché c'è poco da dire su Locatelli, Rabiot, Ken e Chiesa sono giocatori che devono fare la fase offensiva la fase di impostazione Locatelli, Rabiot, Ken e Chiesa la fase offensiva Ken e Chiesa hanno toccato 5 palloni per 1 non hanno fatto un tiro in porta chiaramente non è colpa loro anzi loro hanno fatto un gran lavoro difensivo perché sono stati bravi anche a tornare nella zona difensiva e a fare un lavoro di difesa anche se Chiesa e Ken sono due attaccanti puri e anche Locatelli e Rabiot sono stati bravi in questo lavoro quindi 6 c'è perché hanno fatto il loro dovere hanno avuto la sufficienza però sicuramente non hanno creato niente chiaramente non per loro ma perché la partita era stata impassata così dal mister così come Cambiaso e Vlavic che sono entrati che prendono 6 perché anche loro hanno dovuto fare la partita di difesa Cambiaso sicuramente è anche un giocatore che sa fare la partita di difesa perché non voleva giocare a Tristino Vlavic come Ken e Chiesa ha provato a fare quello che poteva ha svegliato tanti palloni però l'insufficienza non si può dare anche date dalle tante critiche che gli sono state rivolte e lui gli rispondeva a tono dicendo la prossima volta vincerete prendendoli in giro così però oltre agli insulti vabbè comunque Vlavic anche lui ha dovuto fare una partita un po' più di difesa è entrato pochi minuti ha sbagliato con i palloni però non credo siano stati tanti per i fischi perché anche nelle altre partite li sbagliava però stavolta almeno 6 diamoli visto che c'è stata poca occasione per lui Milik invece vuole dare mezzo punto in più 6 e mezzo perché è vero che anche lui ha potuto avere poca occasione perché è entrato 10 minuti e la Juve doveva difendere come in tutta la partita però Milik è riuscito anche a guadagnarsi il fallo e a tirar su la squadra che nei minuti finali è importante non solo a difendere ma anche a prendere i suoi falli e recuperare tempo e farle diventare una partita ancora più sporca e quindi Milik veramente 6 e mezzo molto positivo Allegri 6 6 perché ha fatto la partita che doveva fare sufficiente niente di bello niente di più di 6 perché non c'è niente di spettacolare niente di veramente che ti meraviglioso in questa partita però c'è rificate c'è risultato e quindi non può che essere sufficiente la prestazione non può che essere sufficiente quello che ha fatto il mister che sempre di più ci crede secondo me in questo scudetto perché la Juventus non ha la squadra dell'Inter ma dopo l'Inter è la seconda squadra con giocatori più di qualità e di valore e quindi è obbligata a lottare con l'Inter e noi lo stiamo facendo e sarà fondamentale a partire con l'Inter ma prima dovremmo pensare a Cagliari perché non bisogna sottovalutare questa partita perché queste partite che sono in mezzo prima di un incontro importante sono sempre sottovalutate ma dato che c'è anche la sosta prima pensiamo a Cagliari poi gli Inter ci pensiamo dopo la sosta prima pensiamo a partire con Cagliari che sembra facile ma non lo è mai quando una squadra contro sta rinascendo con mister Ranieri che veramente sta facendo un gol a lavoro e quindi noi andremo ad analizzarla poi verso il fine settimana verso venerdì per analizzare questa partita quindi ragazzi questa è l'analisi partita il post partita e le pagelle di Fionettino e Juventus una partita che ci ha regalato tre punti e il secondo posto meno due dall'Inter e noi ragazzi ci vediamo a fine settimana con il pre partita di Juventus Cagliari e poi anche con vari video di ciclismo che continuano ad arrivare oltre a quello di Alaphilippo arriveranno altri video su Bell Stop e quindi ragazzi ci vediamo a fine settimana per parlare della partita tra Juventus e Cagliari e quindi ciao a tutti ragazzi forse Juventus ciao a tutti ragazzi